Oh, è lui! Ma lui, lui! Non è lui! Ma le mani da re dovrebbe portare un anello. Mio figlio è lo studio a libri a scuola, incredibile. Quando è che lo posso contare? Nell'aldilà. Secondo te lui pianta, ma non è così basso come l'icono? Fresco pensiero, orientale generosità, suo adenco sorriso. Con questi occhi nuovi ha un fascino magico orientale e vorrei abitare nel suo cervello. Ho visto quanti libri si sono presi la briga di scrivere contro di me. La sinistra non riesce a mettermi a fuoco Pensa che tutto sia sempre complesso E invece è tutto così elementare